salve a tutti amici e amiche oggi un piccolo update della situazione in ucraina almeno diamo un'occhiata alla situazione in tempo reale per quanto riguarda soprattutto lo spazio aereo immagino che molti di voi abbiano seguito le notizie sui telegiornali e il dibattito politico che è scaturito dalle dichiarazioni di james stoltenberg circa il possibile utilizzo delle forniture nato oltre il confine ucraino non voglio entrare nel merito di questo dibattito ma dico solamente che viene strumentalizzato e deviato per fini che secondo me hanno a che fare solo con la campagna elettorale e le europee in corso e nient'altro e la cosa più triste è che ultimamente i politici si rivolgono sempre soltanto alla propria curva come in uno stadio e non si preoccupano mai di fare discorsi per tutti e fare chiarezza generando sempre confusione e schieramenti opposti e dico questo perché come ho precisato anche nell'altro mio video in cui esprimo le difficoltà di avere un quadro preciso di quanto sta accadendo nel conflitto queste dichiarazioni lasciano il tempo che trovano hanno una connotazione esclusivamente ad un livello di dibattito politico e non hanno nulla a che fare poi con le reali operazioni che si svolgono ogni giorno sul campo e nello spazio aereo bene quindi prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al canale qui in basso a sinistra trovate il bottone per farlo allora tenete presente quanto detto all'inizio e confrontatelo con le ultime notizie che arrivano dal fronte e parlano di attacchi condotti contro i ponti in quest'area circa 20 esplosioni sono state segnalate e non è chiaro se si tratta di fuoco antiaerea russo o delle operazioni condotte contro con droni marittimi e contro le motovedette russe nell'area sui telegiornali oggi sono state trasmesse anche immagini di antiaerea russa proprio in quest'area che sembrano fare fuoco di sbarramento contro droni ucraini o missili non è chiaro fonti non ufficiali comunque parlano di un attacco non diretto a quei ponti o infrastrutture che gli ucraini per questo tipo di attacchi stanno aspettando gli f-16 almeno per poterli condurre in modo più efficace e con attacchi di precisione dalla svezia in ogni caso è arrivata la notizia della fornitura all'ucraina di un aereo per ricognizione e guerra elettronica saab 340 a e w nella variante asc 890 è un aereo molto avanzato specializzato nel ruolo di early warning e non si parla di un aereo che farà missioni per l'ucraina ma di una vera e propria cessione allo stesso popolo ucraino per usarlo con piloti ucraini a bordo questo aereo ha un ruolo primario nel rilevare missili droni e aerei per quello che vediamo già fare a tutti gli aerei degli assetti nato che volano a est dell'ucraina ogni giorno da due anni a questa parte e mentre sto parlando vi mostro proprio questi aerei in tempo reale oggi pomeriggio tutto lascia intendere che il ruolo di questo aeroplano sarà di spingersi un po più avanti e coprire quelle aree a est che non vengono coperte dagli assetti nato di cui ho parlato poco fa e questo permetterà anche di vedere quello che fanno i russi sul loro territorio a nord est est e sud est nel frattempo continuano le trattative da parte della svezia attraverso l'ambrasciatore presente a kiev circa la possibile fornitura di j39 griffen aereo che da un punto di vista tecnico di armamenti e operatività è decisamente più avanzato di un f-16 è sicuramente in grado di preoccupare il cremlino un'altra notizia che riporto è un'esplosione la base russa nell'area del donesk dove si sa che operavano appunto centri di comando russi poi dal sito deep state è giunta la notizia di combattimenti a kievka con una colonna russa che è stata colta di sorpresa e la perdita di alcuni mezzi l'ultima notizia poi parla di due traghetti per il collegamento nella zona di kerk dove sono stati colpiti questo arriva da fonti russe che parlano dei frammenti di missili intercettati dalla loro dalle loro postazioni antiaeree e questi frammenti cadendo li hanno danneggiati costringendo i russi ad auto affondarli il ruolo di questi traghetti era importante perché venivano usati proprio per la logistica militare fra le due sponde fonti ucraine parlano invece della distruzione dei due traghetti un camion e la ferrovia vicina quindi per tornare al discorso iniziale sono oltre due anni che gli ucraini quando possono colpiscono basi e infrastrutture russe nel loro territorio che non è solo quello occupato quindi senza entrare nel dettaglio sul tipo di droni volanti o marittimi e della loro provenienza e dei missili e dei proiettivi d'artiglieria questa è la realtà concorderete che tutto il dibattito politico circa l'utilizzo delle armi italiane tedesche francese o nato che siano in generale sul territorio russo lascia il tempo che trova dal momento che gli ucraini usano quello che hanno e spesso hanno portato attacchi in profondità senza badare all'etichetta sulla confezione del resto i droni che hanno utilizzato fino ad oggi per provocare la morte di migliaia di soldati russi guardate queste immagini sono proprio questi tecnologia dji che provate un po a indovinare da dove viene è cinese quindi ricordiamoci questo quando vediamo i grandi sorrisi e le strette di mano amichevoli fra putin e jinping che la cina con i suoi droni è responsabile della morte dei soldati russi molto di più dei patriot delle artiglierie e di eventuali f16 europei ma come qualcuno ha detto e mi pare che fosse nel libro armi acciaio e malattie la guerra si fa sempre perché conviene da un punto di vista economico bene con questi discorsi edificanti estendendo un velo pietoso sul genere umano diamo un'occhiata in tempo reale mentre finisco di scrivere questo articolo e provo ad andare a braccio e quindi in questo momento c'è questo aereo per la ricognizione e controllo dello spazio aereo ovviamente nato tra l'altro è stato oscurato le informazioni non sono queste parla di un bombardier challenger 650 che potrebbe essere un aereo per la guerra elettronica ma non è riportato niente non c'è la nazionalità non c'è niente fra l'altro sta volando anche piuttosto basso per questo tipo di operazioni quindi sì probabilmente semplicemente è un aereo generico per la guerra elettronica nel frattempo vediamo se becco qualcos'altro almeno per quanto riguarda aerei militari che utilizzano il transponder quando intersegano rotte commerciali in tutta quest'area non è insolito vedere aerei militari e con un altro non dichiarato vediamo un po' ci sono tutti aerei per il collegamento in genere sono nascosti in quest'area ieri qui c'era un global hawk al centro del mar nero proprio a sud dell'area russa questo trasporti trasporti questi trasporti poi sono facilmente tracciabili e questo è quanto se avete domande proposte per i prossimi video scrivetemi cercherò di accontentarvi con questi strumenti che posso utilizzare sono flight radar di cui ho la licenza deep state questo è un sito molto interessante che utilizza dati di intelligence inglesi americani e confronta anche con quelli riportati dalle fonti ufficiali russe e ucraine questo sito tiene traccia per esempio di tutte le operazioni i quadratini rossi che vedete se non si è capito sono lo storico di tutte le operazioni quindi quando si parla di operazioni ucraine oltre confine sono queste sono quelle segnalate quindi è lo storico quindi c'è poco da dire sui discorsi che fanno oggi in politica questa per esempio la posizione della mosca moskva di cui ho elaborato un video qualche tempo fa e niente la situazione è questa è questa deep state tiene conto anche dell'avanzamento delle truppe e dei report che giungono sul campo chiaramente come ho detto anche nell'altro video non sono dati precisi si parla di stime si parla di incrociare i doti le fonti ufficiali con la propaganda per capire cosa è vero cosa non è vero ci vorrà del tempo per fare veramente un quadro esatto una ricostruzione storica della situazione e questo è quanto fatemi sapere nei commenti come sempre un abbraccio alla prossima grazie grazie grazie